ovvio alessandro vi siete fatte l'intervista guardiamo anche la valli visto siamo qui da ciccio questi questo è questo è furibondo un pulerno da mario guarda guarda furibondo che si sta preparando per debuttare furibondo il nome è tutto un programma è tutto un programma vero che no quello è fuibondo partire via se no è la vai ecco fuibondo poi a questo è audace che ha vinto appollonia scorsa dieci giorni fa e vecchio leone ed è sempre 11 anni ma sempre regala sempre soddisfazione a quei ragazzi che ce l'hanno questa è un'altra funella forza parisi ah forza parisi qui siamo saldetti si sta preparando per debuttare forza parisi puletti bimbetti eh poi c'è un'altra fila di pomario residenza pomario urbania questo ha debuttato ha fatto una debuttante a firenze come siamo a filibus ecco tutti i nomi tutti tutti i nomi cattivelli la sorellina il dispettoso di babbo andate ora sono detrati ora eh poi abbiamo questa questo ha questo caldino un po nell'occhio ora eh che stressi d'orecchie delinquente vai la letto se vai la fatti per su vai la a me e no e petto ma ma è ma è la scola questo è una petta ti fa girare un muro se va più la delinquente fatti vedi su e si aiut facciamolo vedere qui questo qua piazzaiolo se lo vede è bene è un po' la butto eh carattere se non si vanno col vino di mangiare a lui di notte avere questo proprio piazzaiolo è visto e vero questo vi ho molto solo a mociano vendito un paio queste testine questa è strusa questa è la società per azioni devo arli ricordiamolo remo figlia d'arte figlia di osa di marini e terza terza la battono due cavalli importanti la parte dove c'è il demonio poi c'è gente scrive di avalio sani meno è un cavallo si chiede tutto è tutto programma niente bene e se la sonda rossa provincia faceva poi bello esatteggiano anche i tenditori a ben farebbero anche di te piange il padre un coraggio parlare di quello che stanno ecco i giorni poi c'è quelli fuori dice ciccio tre 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 intervistata anche io penso che nessuno d'accordo d'accordo a tre ne è ma ma senti ascolta abbiamo ogni tanto vado a mangiare a casa a poco anche in casa anche in casa che c'è la mia moglie siciliana è più brava di me io sono qui tutto il giorno non ma si deve trovato il posto dove invecchiarci del soggetto a che bene con le spallone di ciccio chiudiamo fino appuntamento alla prossima buona giornata ciao ciao ciao